Intanto abbiamo visto questa slide prima, parlavamo di 8 metri quadrati al secondo, quindi una percentuale che dagli anni 50 ad oggi è cresciuta dal 2,9% al 7,3%. E' importante anche, si parlava della certezza della misura, in realtà nessuna misura è certa, questo per definizione stessa del concetto di misura, però è importante dare il valore di questa incertezza. E quindi quando si danno dei numeri, noi abbiamo in qualche modo l'obbligo di fornire, e questo è una cosa che spesso non avviene, va riconosciuto, un intervallo di confidenza di questa stima. Qui vedete che a questi numeri sono accompagnati degli intervalli di confidenza. Questi intervalli di confidenza dipendono dalla qualità dei dati utilizzati, dalla validazione di questi strumenti. E vedete che questo intervallo di confidenza in realtà è piuttosto limitato per quanto riguarda questi nostri numeri. C'è anche una differenza nella geografia del consumo di suolo, ovvero questi 8 metri quadrati al secondo non si distribuiscono in maniera omogenea su tutto il territorio. Ci sono alcune aree del territorio che crescono di più, alcune aree del territorio che crescono di meno. In particolare da questo grafico si vede come ad esempio il nord-ovest, che ha comunque il livello di suolo consumato più alto nel nostro paese, in realtà però ha un tasso di crescita inferiore rispetto ad altre aree del paese come il nord-est e il centro Italia. Per quanto riguarda invece una visione a livello regionale, vediamo qui due immagini, e una sulla sinistra relativa agli anni 50, in cui gran parte delle regioni, anzi tutte le regioni, avevano delle percentuali di suolo consumato molto basse, quindi parliamo di percentuali inferiori normalmente al 5%. Nel 2012 questa immagine cambia radicalmente, questa cartografia, per cui abbiamo due regioni, che sono la Lombardia e il Veneto, che superano il 10%, altre regioni, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, che vengono subito dietro con delle percentuali comprese tra l'8 e il 10%. Anche in questo caso il tasso di cambiamento e di crescita è diversificato. Se vediamo come sono andati evolvendosi questi numeri nel corso degli ultimi 60 anni, vediamo che anche qui alcune regioni, pur, nel caso ad esempio della Lombardia, pur avendo dei tassi tutto sommato limitati, partivano comunque di crescita, partivano da percentuali già alte, quindi il territorio è molto consumato. Al contrario il Veneto, che ha delle percentuali di suolo consumato paragonabili, come abbiamo detto prima, a quelle della Lombardia, come si vede dalla variazione di questo istogramma, in realtà ha avuto un tasso di crescita negli ultimi anni ben più marcato. Abbiamo fornito anche un quadro a livello comunale, ovviamente i dati a livello comunale hanno delle attendibilità inferiori rispetto a quelle regionali e nazionali, per ovvie ragioni di qualità e di dimensione dell'area studiata, per cui abbiamo questa cartografia che ci permette di avere un quadro completo su tutti gli 8100 comuni in Italia e abbiamo degli specifici approfondimenti sui comuni principali che ci permettono di avere quindi delle qualità, delle stime migliori. Vediamo che anche in questo caso le aree urbane sono quelle dove si concentra ovviamente la maggiore percentuale di superficie artificiale. Abbiamo dei comuni che addirittura hanno saturato e coperto il territorio di cemento e di asfalto per più del 60%, ad esempio Napoli e Milano. Sono percentuali molto eclatanti perché fanno vedere come in realtà l'area naturale è assolutamente marginale all'interno di questi comuni, tra l'altro un'area naturale che poi è impattata ulteriormente da una frammentazione del paesaggio, da una distribuzione di queste superfici artificiali che in realtà hanno delle ripercussioni anche al di là del suolo direttamente coperto. E vediamo che da questa mappa sulla sinistra questo consumo di suolo si distribuisce secondo alcuni assi privilegiati e in particolare lungo le pianure, nelle zone più fertili e più preziose del nostro paese, ma anche lungo le coste. Guardate quella striscia rossa quasi ininterrotta che è sulla fascia adriatica, ma anche nel sud del Lazio e della Campania. Quindi si concentra questo 7%, e questa è una peculiarità del territorio nazionale, in alcune zone, anche perché il nostro territorio in realtà è un territorio particolare in cui abbiamo dell'arco alpino, abbiamo delle zone montuose, delle zone naturali ad alta valenza, ambientale, zone umide, corpi idrici, laghi, eccetera, che sono evidentemente non intaccabili, per varie ragioni, insomma, dal consumo di suolo. Quindi questo 7% abbondante di suolo consumato, che è comunque una delle percentuali più alte nel panorama europeo, in realtà è ancora più drammatica la situazione perché si concentra in alcune zone particolari. Bene, ma consumiamo suolo, ma per fare cosa? Bene, al momento questo 7,3% del territorio è distribuito tra queste tipologie di consumo. Vediamo che se gli edifici e i capannoni, insomma, in generale, tutto quello che è edificato, rappresenta un 30% del suolo consumato. Le infrastrutture lineari arrivano a coprire il 47% nel loro complesso, e parliamo di infrastrutture lineari principali, ma anche quel reticolo di strade, di piccole infrastrutture locali, che in realtà sono piuttosto consistenti, sono il 19% di questo ammontare. Quindi evidentemente ci sono diverse componenti, diverse responsabilità in questo processo di consumo del suolo. E questo suolo consumato in realtà si concentra in diverse aree, come abbiamo detto, e in particolare, normalmente a noi viene da pensare che si vada a concentrare nelle aree urbane. Evidentemente è così, ma questo consumo di suolo intacca anche le aree attualmente agricole. Attenzione, qui non stiamo parlando di quello che c'era prima, di che cosa è stato intaccato dal consumo di suolo, che è prevalentemente, ma questi sono dati noti, superficie agricola. Stiamo parlando di quello che c'è adesso, cioè all'interno delle aree attualmente agricole, noi abbiamo una percentuale di suolo coperto artificialmente, da cemento, asfalto, compattato, eccetera, pari al 9%, quindi è drammatica la situazione del nostro territorio. Noi dobbiamo tutelare maggiormente queste aree agricole, naturali e seminaturali anche, perché anche lì questo 2% non è un fattore trascurabile. Abbiamo accennato prima al problema della costa. La fascia costiera è un elemento di particolare criticità del nostro territorio, e qui vedete nel dettaglio che cosa è successo in questa fascia di 10 km dalla linea di costa. Bene, le percentuali, come vedete dall'istogramma a destra, sono decisamente più marcate in questa zona, anche negli ultimi anni, anche quando, in qualche modo, l'importanza di questa fascia è stata ampiamente riconosciuta, a livello anche scientifico e politico. Dopodiché, ovviamente, parlavamo prima del nostro territorio, delle particolarità del nostro territorio. Alcune zone sono più difficilmente intaccabili, parliamo delle montagne, ad esempio, dove c'è una percentuale di consumo di suolo nettamente più bassa, non trascurabile però, del resto del paese, ma evidentemente questo consumo di suolo, come si vede da questi dati, riassunti in questo grafico, si va a concentrare in particolare nelle zone di pianura, dove comunque anche il tasso di variazione è più elevato che non nel resto del territorio. Quindi, dobbiamo misurarlo, questo è stato più volte detto questa mattina, per misurarlo bisogna definire che cos'è questo concetto, perché se noi non partiamo da una definizione chiara, non possiamo neanche andare a misurare chiaramente che cosa vogliamo ottenere, e quindi diamo effettivamente dei numeri all'otto, e di esempi ne potremmo citare tanti. Per cui, noi, in qualche modo, ci stiamo muovendo attraverso un'integrazione delle fonti, un'analisi delle fonti informative, e poi un'integrazione di quelle che sono delle fonti, a nostro avviso, ritenute più significative. Queste fonti che devono essere, per forza di cose, di due tipologie diverse. Una fonte di tipo campionaria, che ci permette di avere un dettaglio estremamente elevato del singolo punto, perché anche il singolo metro quadro del nostro territorio che viene asfaltato viene perso, nel suo complesso, insieme a tutti gli altri metri quadri, costituiscono una superficie considerevole. E poi, ovviamente, deve essere spazializzato, deve essere cartografato, dobbiamo avere una visione d'insieme complessiva di tutto il territorio. E questo avviene attraverso oggi, come si è stato citato stamattina, attraverso le tecnologie principalmente di osservazione della Terra. E quindi, in questo caso, faccio riferimento a tutto il lavoro di Ispra nell'ambito del programma Copernicus, e non solo. Questa è un'analisi delle diverse fonti informative, che, come veniva citato dalla presentazione del direttore, è possibile, Ispra avrà il compito, in qualche modo, di catalogare anche queste fonti informative, e valutarle, ovviamente, per capire come poi queste fonti informative possano essere integrate, e per superare anche i limiti di queste fonti informative. Queste estime che noi forniamo, come abbiamo detto, servono anche per fornire dei numeri più certi di quelli che venivano forniti fino ad oggi, quindi con questi coefficienti di variazione decisamente più limitati. Perché c'è un problema? C'è un problema in queste diverse fonti informative, ci sono diversi problemi, venivano citati prima, c'è un problema di omogeneità, di completezza, di periodicità, di aggiornamento, c'è un problema della scala, delle caratteristiche geometriche di queste informazioni. Ci sono problemi, poi, dei sistemi di classificazione e di accuratezza tematica. Spesso queste cartografie che vengono utilizzate sono delle cartografie di uso del suolo, ma l'uso del suolo non è detto che si trasformi in un consumo di suolo direttamente. E quindi le stime che noi forniamo sono basate su principalmente queste iniziative che vedete elencate qui, ovvero una rete nazionale di monitoraggio del consumo di suolo, che vede la collaborazione dell'intero sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, integrate con cartografia ad alta risoluzione nell'ambito del sistema Copernicus e attraverso approfondimenti che stiamo facendo per aumentare ulteriormente la risoluzione geometrica di queste informazioni, per ottenere questa carta nazionale dell'impermeabilizzazione del suolo. Tutto questo è confluito all'interno del sistema statistico nazionale, ed è una specifica indagine di competenza di Ispra, ma che vede ovviamente la partecipazione di tutto il sistema delle agenzie regionali e provinciali, e dello stesso Istat, con cui stiamo felicemente collaborando insieme ad altri soggetti, si citava AGEA, ma altri soggetti istituzionali, negli ultimi anni. Dopodiché ci poniamo anche il problema che non è sufficiente fornire delle stime di superficie, dobbiamo anche capire come queste superfici si vanno a collocare nello spazio, qual è la forma di queste superfici, la forma urbana, perché ovviamente una dispersione insediativa, una frammentazione del territorio dovuta a una dispersione di questi piccoli, spesso pezzettini artificiali che si vanno a disseminare sul territorio, ha delle ripercussioni, delle ricadute sull'ambiente molto più gravi che non se queste aree urbane, se queste forme artificiali fossero più compatte e concentrate in alcune zone. E questo tra l'altro si sposa anche con quei dati che dicevamo prima su tutto il ruolo del reticolo delle infrastrutture che vanno a frammentare ulteriormente il territorio e il paesaggio. E quindi stiamo valutando, questo nell'ambito del rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano che annualmente produce il sistema agenziale, anche di valutare attraverso una serie di indicatori specifici la differenza nella tipologia insediativa e delle forme di urbanizzazione. E quindi in particolare abbiamo la possibilità quindi di fare dei passaggi di scala, di passare da un livello europeo a un livello nazionale a livelli invece più dettagliati come questi esempi che trovate qui sulla destra e che trovate anche con alcuni esempi di tavole alla fine del rapporto che vi è stato consegnato questa mattina. Parlavo prima dell'importanza di capire se questi numeri che stiamo fornendo sono validi o invece hanno un margine troppo alto di incertezza. Bene, questo qui quindi tutta questa attività che noi abbiamo in qualche modo portato avanti dal 2005 ad oggi che è stata avviata nel 2005 ci ha portato poi man mano a validare queste informazioni attraverso campagne autonome di controllo e di rilevazione e a valutarne l'accuratezza e l'errore della stima per cui siamo oggi in grado di effettivamente avere dei numeri ben più certi rispetto a quelli che noi stessi magari fornivamo qualche anno fa. Ma tutto questo non basta perché il territorio nazionale è composto di 300.000 km quadrati sono 300 miliardi di metri quadri ogni metro quadro ha la sua importanza ed è impensabile di avere una visione completa di ogni metro quadro del territorio per questo ci serve l'aiuto di tutti e da quest'anno da oggi lanciamo questa nuova app cioè un'applicazione che attraverso dispositivi mobili permette a chiunque di segnalare il nuovo consumo di suolo sul territorio attraverso un sistema molto semplice che acquisisce automaticamente la posizione geografica nel punto in cui si trova il singolo cittadino che può descrivere dettagliare classificare questo consumo di suolo ed eventualmente inviare anche delle immagini delle fotografie tutto questo confluirà sulla cartografia ISPRA ovviamente non questa informazione questa mole di informazione dovrà essere validata controllata e confrontata con altre fonti informative e questo confronto potrà essere fatto da chiunque lo faremo noi ovviamente che abbiamo la responsabilità del dato ma chiunque avrà accesso a questa informazione perché le informazioni sono tutte disponibili sui nostri siti istituzionali sono disponibili le informazioni che noi utilizziamo per tirare fuori queste stime saranno disponibili e sono già disponibili vi invito a provare eventualmente se quando tornando a casa vedete che si sta costruendo un nuovo capannone un nuovo parcheggio un nuovo piazzale o così via a inviare questa informazione questa informazione sarà sovrapposta con la nostra cartografia e sarà possibile a chiunque vedere questi dati sul web e soprattutto vederli in maniera integrata perché queste informazioni come si ricordava stamattina sono immediatamente fruibili attraverso un sistema che permette un'integrazione delle diverse fonti e una sovrapposizione con diversi punti di vista e diversi processi che noi andiamo a analizzare chiudo la mia presentazione con un immenso grazie nel senso che ovviamente io sono qui per rappresentare un lavoro che non è frutto soltanto della frena del mio sacco ma è frutto come dicevamo prima di una serie di colleghi di Ispra ma di tutto il sistema agenziale di tutti i soggetti istituzionali che ovviamente non posso citare qui per brevità di esposizione ma che a cui veramente insomma voglio ringraziare perché questo è un lavoro di un intero sistema che ci serve ad evitare che nel nostro paese possa mancare questo quadro di analisi di misura di questo fenomeno che nei 15-20 minuti in cui parlavo di fatto ha costruito questo che vedete qui sotto cioè in 15 minuti questo è successo nel nostro paese più o meno questo è il numero di palazzine e di strade che sono state costruite con ovviamente una semplificazione dovuta alla mia presentazione nel nostro paese mentre io parlavo grazie a tutti grazie Michele un altro degli slogan della mia presidenza è largo i giovani credo che sia in termini di ricambio generazionale ma soprattutto di idee l'ultimo passo credo che sia un primo passo verso una risposta e un impegno che ho preso come presidente in particolare presso le commissioni ambientali in particolare l'ottava commissione ambiente della camera non relativamente alla disponibilità del dato come open data ma anche attraverso un'interazione diretta relativamente ai cittadini è un percorso non facile è facile annunciarlo ma è anche difficile calibrarlo capire quali sono i percorsi da fare come interagire con altri elementi informativi come la web tv come mille altri sistemi che in qualche modo devono accompagnare e anche diciamo filtrare e pesare l'informazione che arriva che non è assolutamente non è un processo banale dico questo prima di cedere la parola al dottor Luca Marmo per responsabile del settore suolo della commissione europea che ci rappresenterà in materia quello che è lo scenario europeo proprio per questo legame anche con queste diciamo questi obiettivi che nella commissione sono stati dibattuti a partire da molti anni fa ad esempio dalla direttiva Inspire la direttiva Inspire è nata proprio nel tentativo lo continuo a ripetere tutte le volte ci vediamo ma insomma nel tentativo l'idea fondamentale è quella che i paesi si dovevano parlare le persone si dovevano parlare gli esperti si dovevano parlare i servizi si dovevano parlare nessuno doveva essere geloso delle proprie conoscenze le conoscenze dovevano essere in comune poi possiamo parlare di tutti i termini tecnici possiamo parlare di tutto quello che vogliamo dei metadati se sono limitati non sono limitati come li faccio come li faccio in realtà lo spirito fondamentale è che come diceva Rousseau ci arrotondiamo le teste se però ci confrontiamo parliamo scambiamo le informazioni ci confrontiamo anche duramente ma questo è un elemento fondamentale prego dottore grazie